Siamo pronti ad entrare in campo Dicevamo pincerato al servizio Su Pinedo Palleggio di Angelelli Attacco di Enrico Murato E non recuperato dalla squadra giavenese La squadra giavenese che adesso sta perdendo un po' Il distacco Sta prendendo distacco rispetto al squadra di casa 6 a 11 risultato parziale Glod Angelelli Nuovamente Glod Pincerato per Sencova Recupera Cardani Bello scambio lungo Glod Palleggio di Pincerato Attacco difeso dalla Pinedo Angelelli Glod E attacco out di Glod Dodicesimo punto Per la casa della squadra di casa Il tecnico giavenese chiede nuovamente un time out Sotto accolto da Pinedo Per la casa della squadra di casa E attacco da Pinedo E si rientra in campo dopo 30 secondi di time of day. Con pincerato al servizio. Glod. Angelelli per Glod. Pinedo e Cariparma salva. Recupera un pallone importante. Ariko, muro, mani out. Settimo punto per Giavena. Ariko che ora si porta al servizio. Ariko su Senkova. Palleggio pincerato. Attacco murato di Conti. Nuovamente Conti, nuovamente muro, vincente di Giavena. 8 a 12 risultato parziale. Sempre Ariko al servizio. Sul libero, palleggio pincerato e attacco vincente della numero 4 Montani. Napolitano Senkova al servizio. Napolitano Senkova. Servizio a rete. E nono punto per il Giavena. Desireglod al servizio si prepara sulla Senkova. Palleggio. E attacco vincente, molto forte della numero 14 Cella. Montani al servizio. Su Giavena. Palleggio Angelelli. Attacco di Renzi. Recuperato da Angelelli, ma la Giavena non arriva. Nuovamente Montani al servizio. Pinedo. E Renzi. Che fa il decimo punto per il Giavena. Renzi che ora si porta al servizio. Servizio out della nostra Renzi. E secondo time out tecnico della partita. Secondo time out tecnico della partita. Si rientra in campo. E la squadra rientra in campo con una sostegna alla parola della pubblico. 16-10 con il Giavena. Passa a livello 7 del Giavena. Al servizio. Al servizio. Conti. Pinedo attacca. Palleggio. Della Pincelato. E attacco vincente della numero 14 Cella. Parma che adesso si è distaccata notevolmente da Giavena. 17-10 risultato parziale. Sempre conti al servizio. Sempre conti al servizio. Su Glod. Pinedo attacco. Pinedo attacco. Sì. 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 Pincelato. Pallonetto vincente della... Pincelato. Pincelato. Recupera. Applauso del pubblico per il bellissimo scambio di entrambe le squadre. Punto che comunque va alla squadra di casa e si aggiudica il ventesimo punto. Conti al servizio. Servizio EIS. In comprensione tra la... Pinedo e Glod. Nessuno l'ha recuperata e la palla è andata fuori. È andata in campo. A questo punto la distanza è aumentata notevolmente. 21 a 10. Ricordiamo il punteggio. Esce Glod ed entra per Giaveno Safronova. Safronova che si rende partecipe del primo difesa. E Midriano fa il primo punto. Angelelli al servizio. Attacco della... Vincente della... Cella. È Cella che si porta al servizio. Cella al servizio sul 22.11. Pinedo. Angelelli. Pinedo. È Cella che difende. Difesa di Safronova. Attacco di Pinedo. Cella. È pincerato un pallonetto vincente. 23esimo punto per la squadra di casa. 22.11. Cella sempre a servizio. Con Mellis o Cella. Pinedo. Angelelli. Aricò. È punto. Attacco vincente dell'Aricò l'uno sulla... riga del campo. Pinedo al servizio. Pinedo. Pinedo al servizio. Succella. Pinedo al servizio. Pinedo al servizio. È attacco vincente della Napolitano Senkova. 24 i punti per la squadra di casa. 24.11. De Gennaro al servizio. Servizio che va a rete. È il tredicesimo punto per la squadra di Giaveno. Ora Midriano al servizio. Servizio quasi ace. La Senkova recupera un pallone per... Recupera un pallone e fa anche punto. E chiude il set con 25 a 13. Anche un'altra vieta. Grazie. Grazie a tutti. Per il nostro paese è un buon dettaglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti